E va bene, allora siamo qui per l'unboxing del nuovo Wargame di Sergio Schiavi e di Dissimula Edizioni, dopo il grande Radetzky Marsh, l'altrettanto grande e decisamente più grosso, From Salerno to Rome. La campagna d'Italia, dieci mesi dallo sbarco di Salerno fino alla presa di Roma del giugno del 44. Beninteso, fino alla presa di Roma se il giocatore alleato ci dà dentro, perché non è affatto scontato arrivarci, anzi. Allora, questa è la scatola. Volume primo significa che c'è una vaga promessa di continuare con la linea gotica, ma credo che sia meglio non insistere troppo per adesso su questo aspetto. Da Salerno a Roma, la campagna d'Italia, 43-44. È un Wargame, nel caso qualcuno avesse dei dubbi la cosa è segnalata. Dadi fondamentali. Regolamento. In italiano o in inglese a piacere. Sembra fitto, ma rispetto all'incredibile complessità del gioco è fin troppo poco. No, scherzo. Il gioco è complesso, ma padroneggiabile tutto sommato. Basta avere un po' di tempo e un po' di passione, ma quella lo so che ce l'avete. Sono entusiasta di questo gioco, quindi ripeterò spesso, formidabile, grandioso, magnifico, capolavoro. Voi fateci la tara, naturalmente. Però vedete anche voi, insomma, che non sto esagerando. Le pedine sono grosse rispetto ai primi Wargame a cui giocavo tanti, tanti, tanti anni fa. Si sono un po' ingrandite. Non so se ci sia un nesso col fatto che noi giocatori stiamo invecchiando nel frattempo. Non so se abbiamo statistiche sull'età media, ma comunque le pedine sono grosse, giocabilissime. Dunque, vediamo un po'. Proviamo a dare un'idea. No, dopo. Prima la cartina. vediamo cosa mi viene. Sei, come al solito. Non sono mai stato fortunatissimo con i dadi, però poteva andarmi peggio. E questo è un primo pezzo. E questo è il secondo. No, magari meglio girare dalla parte giusta. Ok, ci siamo. Abbiamo preso un tavolo enorme e, come vedete, si fa fatica a farcello stare tutto, ma insomma, bene o male, ci siamo. È un grosso pezzo d'Italia, dalle pianure pugliesi, Foggia, con i suoi aeroporti, Salerno, dove sono sbarcati. Nocera, Vellino, Benevento, dove i tedeschi possono resistere molto a lungo. Napoli, finalmente. Napoli prima o poi si prende. Se non si prende è meglio rinunciare, arrendersi e, come dire, ricominciare un'altra partita. Ma di solito si prende prima o poi, magari sbarcando una dell'ottantaduesima paracadutiste nella pianura dietro. E poi bisogna andare su. Bisogna andare su in mezzo alle montagne. Le strade sono pochissime, come si vede. E poi si arriva a Cassino e alla linea Gustaf, che bisogna, che il tedesco si deve costruire, ma di solito ce la fa. E poi dietro. Roma è laggiù. Ecco, non è affatto garantito arrivarci, come dicevo. A questo punto, se noi proviamo a ambientare una divisione in questo territorio, vediamo cosa mi dà. Sedicesima Panzer. Proviamo a tirar fuori la sedicesima Panzer. La sedicesima Panzer consiste di un certo numero di minuscole e micidiali unità corazzate. Veramente minuscole, non è un battaglione, è mezzo battaglione se va bene. E poi un po' di fanteria e di meccanizzati e di ricognizione. Questa è una divisione corazzata tedesca. L'unico limite che ha è che le unità sono fragili, perché sono piccolissime. Un reparto di Panzer, quando lo giri, fa fatica a avere ancora qualche cosa con cui combattere. E tuttavia, spinger via questa gente, una volta che si è assestata, insomma io ci ho provato, sono uno dei tester, tester si dirà tester, comunque di quelli che hanno fatto i test del gioco. e parlo con cognizione di causa. È una fatica infernale cacciar via questi tedeschi quando non se ne vogliono andare. Quando invece se ne vogliono andare, se ne vanno via per conto loro di loro iniziativa. Perché mentre ovviamente le unità americane e britanniche sono potenti e lente e vanno avanti con molta fatica e metodo, i tedeschi li saltellano intorno con estrema agilità, facendo più o meno tutto quello che vogliono. L'unico loro limite appunto è che sono fragili, sono fragili. Se uno mette a Cassino un battaglione è difficile che possa sperare di avere molto di più. In teoria uno con una divisione potrebbe tenere un fronte di questo tipo, con i carri armati dietro. sembrano tanti, però non sono mai abbastanza. Cos'altro c'è dentro questa scatola? Non tirerò fuori le altre divisioni, anche se la tentazione ci sarebbe veramente, ma temo che siano troppe. Vogliamo tirarne fuori una americana per dare il senso della differenza? Una divisione americana, ecco qua, la classica divisione è tutta un'altra cosa in apparenza, poche unità poderose, ogni unità è un reggimento di fanteria, gli si può appiccicare più o meno tutti i carri armati che si vuole, i carri armati ne hanno finché vogliono, li perdono, ne arrivano altri, li riperdono, ne arrivano altri ancora. In generale l'alleato può infischiarsi abbastanza delle perdite che subisce, se si va avanti con un rapporto di perdite uno a uno il tedesco è fritto, l'unico modo che ha il tedesco di vincere è di barattare pian piano il terreno e salvare le unità, l'anglo americano deve andare dentro, deve andare dentro, deve andare dentro, accettare le perdite, tanto in America le fabbriche vanno avanti a pieno ritmo, i carri armati arrivano, gli uomini un po' meno, ecco, meglio sacrificare carri armati piuttosto che la fanteria, perché gli uomini, dopo di che appunto una divisione americana è fatta per concentrarsi, può concentrare anche tre reggimenti in un solo esagono, apparentemente non la ferma nessuno, poi tipicamente basta l'artiglieria divisionale tedesca per tirarli addosso appena sono tutti concentrati e bloccarli per un turno, è estremamente frustrante giocare con gli alleati, ma i buoni giochi devono essere estremamente frustranti appunto. Cos'altro c'è qui dentro? Beh, prima gli ausili di gioco, le tabelle che ci servono, ce n'è anche una tedesca e una americana, anglo-americana, che servono per investire i punti di iniziativa, i punti di attivazione, che sono la benzina del gioco, e poi non molto altro. Tabelle, come in qualunque wargame, e come in non tutti gli altri wargame, è la cosa che so già che amerete di più, e cioè il libriccino con le siluette dei carri armati e dell'aviazione, quelli veri, quelli autentici, che si ritrovano poi sulle pedine, e su cui si può passare tranquillamente qualche ora a studiarseli, come non dubito che farete. Questo è più o meno tutto quello che c'è, e beh, naturalmente anche per maneggiare tutte queste unità, le tabelle, dove si possono collocare i rinforzi in modo da averli a portata di mano, quelli della partita normale e quelli delle varianti, perché non mancano le varianti. Ce n'è una particolarmente infernale, che consiste nel fatto che quando gli alleati prendono Foggia e i suoi aeroporti, e la devono prendere Foggia, il prima possibile, perché senza quegli aeroporti non arriva abbastanza aviazione, lo dico, è necessario, lo sapete già, diciamolo, e se non arriva l'aviazione stai fermo, gli alleati stanno fermi. Appena presa Foggia si tira, se ricordo bene, un dado e si vede, può darsi che Hitler quel mattino si svegli di malumore e che decida che Foggia bisogna riprenderla, e che un paio di divisioni corazzate SS non gliene leva nessuno a Montgomery per riprendere Foggia. Io ho giocato una volta, è abbastanza terrificante quello che possono fare due divisioni corazzate dell'SS che compaiono all'improvviso sul campo di battaglia, ma in generale quello che possono fare i tedeschi è terrificante, hanno una capacità di contrattacco micidiale, il problema è che si logorano, si logorano in fretta e quindi non possono contrattaccare continuamente, se lo fanno scoprono alla fine di avere colto meravigliose vittorie e di aver logorato un esercito che invece deve assolutamente restare intatto. Quindi, in definitiva questo è un gioco che si gioca in modo molto diverso a seconda che uno stia tenendo gli angloamericani o che stia tenendo i tedeschi, il che vuol dire che lo potrete giocare almeno due volte, dopodiché sarà passato qualche anno e Sergio Schiavi ne avrà tirato fuori un altro. Grazie a tutti.